Gli alieni esistono? Anche se la conferma ufficiale dell'esistenza degli alieni tarda ad arrivare, le prove sembrano essere più numerose. Dagli oggetti volanti inspiegabili nel cielo alle testimonianze scioccanti di ex funzionari dei servizi segreti. Non vogliamo forse riconoscere la verità? Tendiamo a nascondere la testa sotto la sabbia e a ignorare gli innumerevoli riferimenti agli alieni? Oppure tutte le dichiarazioni controverse sono in definitiva solo aria fritta? Oggi ci immergeremo con te in un regno che di solito ci viene nascosto. Cosa hanno visto Edward Snowden e gli altri addetti ai lavori che viene tenuto nascosto al resto del mondo? Resta sintonizzato per scoprirlo da solo. La ricerca di Snowden Era il 2013 quando un certo Edward Snowden fece trapelare alcune informazioni scottanti a un regista statunitense e a un giornalista del Guardian. In qualità di ex dipendente della CIA, Snowden aveva accesso alle intercettazioni top secret e alle pratiche di spionaggio delle agenzie di intelligence statunitensi. Coloro che non appartenevano alla cerchia elitaria di CIA, NSA e company non avevano quindi accesso alle informazioni top secret, ma ora tutto il mondo può vedere con i propri occhi quali azioni vengono svolte in segreto. Mentre il whistleblower vive ora in asilo in Russia, alcune persone si pongono una domanda fondamentale. Cosa ha scoperto davvero Snowden? Le agenzie di intelligence stanno forse nascondendo informazioni ancora più inquietanti di qualsiasi scandalo sulle intercettazioni, per quanto incredibili? O in altre parole, cosa sa il governo degli Stati Uniti sugli alieni? La teoria che una piccola elite nasconda la popolazione e conoscenze sconvolgenti non è nuova. Considera il famigerato incidente di Roswell del 1947, quando un oggetto inquietante cadde dal cielo vicino alla città di Roswell, nel Nuovo Messico. Ufficialmente si trattava solo dei detriti di un pallone meteorologico. Ufficiosamente si dice che i resti extraterrestri siano tuttora conservati in un luogo segreto. Snowden voleva anche sapere se queste voci potessero essere vere. Se si seguono le dichiarazioni dell'informatico, nell'ambito della sua ricerca, si è immerso nelle reti della CIA per andare a fondo della conoscenza proibita. Tuttavia, la ricerca completa di indizi ha portato a un risultato che dovrebbe far riflettere la maggior parte degli appassionati di UFO. Così Snowden ha dichiarato «Mettiamo le cose in chiaro. Dal mio punto di vista, gli extraterrestri non hanno visitato la Terra fino ad oggi, o almeno non hanno contattato le agenzie di intelligence statunitensi». In un'intervista con Joe Rogan, Snowden ha ribadito le sue dichiarazioni. «Ho avuto accesso, quasi ridicolo, alle reti segrete della NASA, della CIA e dell'esercito e non ho trovato alcuna prova dell'esistenza di alieni, niente del genere». Ma questo significa che possiamo finalmente accantonare tutte le speculazioni e le teorie selvagge? Non necessariamente. Infatti, le ulteriori parole dell'informatore ci hanno fatto alzare la testa e prendere nota. Se ci stanno nascondendo qualcosa, è davvero ben nascosto. Anche a coloro che fanno parte del sistema. Tuttavia, non c'è dubbio che questi gruppi siano in grado di farlo. Potrebbero nasconderlo a noi. Gli UFO sopra gli Stati Uniti Alla luce di ciò, è possibile che Snowden non facesse semplicemente parte di quella ristretta cerchia che aveva accesso alle informazioni in questione. Ma fortunatamente, c'è un uomo che non era all'oscuro di queste informazioni e che attualmente sta fornendo una profonda visione di questa incredibile realtà. Ma ne parleremo più avanti. Non è passato molto tempo da quando sono state osservate delle strane formazioni nel cielo degli Stati Uniti che hanno immediatamente scatenato un vortice mediatico inimmaginabile. Così, all'inizio di quest'anno, gli Stati Uniti hanno ripreso dal cielo una serie di oggetti volanti sconosciuti che a volte sono stati interpretati come palloni spia stranieri, altre volte come astronavi extraterrestri. Ma cosa ha da dire Edward Snowden sui misteriosi incidenti che all'epoca dominavano i titoli dei giornali e che ora sono scomparsi del tutto dalle cronache? A questo proposito, il whistleblower ha preso una posizione chiara su Twitter. Vorrei che fossero alieni, ma non sono alieni. Nonostante questo, però, gli eventi si basano su qualcosa di molto inquietante. In dettaglio dovremmo farlo qui, ancora una volta con un panico costruito, quindi con un fastidio attraente che è arrivato al governo proprio nel momento giusto. Di conseguenza, l'interesse dell'opinione pubblica è stata deliberatamente indirizzata verso questa, cito, stronzata del pallone, per distrarre dalle questioni veramente importanti. A questo proposito, Snowden ha fatto riferimento alle indagini sui bilanci o al bombardamento del gasdotto Nord Stream, punti significativi e soprattutto da chiarire, ma che si sono persi in tutto il clamore degli oggetti volanti extraterrestri. Incidenti inspiegabili Sapevi che in Germania sono stati registrati più di 137.000 avvistamenti di UFO a partire dall'11 luglio 2023? A sua volta, il numero di osservazioni corrispondenti negli Stati Uniti ammonta a 128.700 casi. Ok, lo ammettiamo, è più che improbabile che ognuno di questi incidenti sia davvero collegato a un'astronave extraterrestre. Tuttavia sarebbe sufficiente che questo fosse vero per una sola osservazione. Già un solo impatto diretto confermato metterebbe fine in un colpo solo a tutte le discussioni sull'esistenza di vita intelligente nell'universo. Alcune persone, come ad esempio la coppia di coniugi Betty e Barney Hill, affermano di essere state rapite proprio da queste creature galattiche. Una notte del settembre 1961, mentre viaggiavano in auto, la coppia avvistò un oggetto radiante nel cielo. Betty e Barney sperimentarono un blackout collettivo e si ritrovarono a 100 chilometri a sud. Sotto ipnosi, i due descrissero in seguito di essere stati fermati da bizzarre creature grigie e portati a bordo di un UFO. In seguito, grazie ad alcuni esperimenti medici e alla manipolazione della memoria, le cavie umane furono nuovamente liberate sulla strada. Poco più di sette anni prima, il 27 ottobre 1954, un UFO aveva messo in crisi un intero stadio di calcio. Mentre la Fiorentina stava giocando contro l'Unione Sportiva Pistoiese, un qualcosa di grottesco apparve improvvisamente nel cielo. Questo è stato descritto come un oggetto a forma di uovo che emetteva una sorta di scintillio argenteo. Sebbene questi episodi controversi siano avvenuti molti decenni fa, non dimentichiamo che le osservazioni di oggetti volanti non identificati continuano a diminuire ancora oggi. Ad esempio, cosa ne pensi del seguente scatto? Fatta qualche mese fa nel nord delle Filippine, la clip ci mostra una struttura trasparente a forma di goccia nel cielo, quasi invisibile a occhio nudo. Tuttavia, lo zoom della fotocamera del cellulare rivela la sagoma surreale dell'entità. Poiché gli spettatori allarmati non avevano mai visto nulla di simile, alcuni di loro hanno segnalato l'avvistamento alla polizia. Tuttavia, anche gli agenti non avevano idea di cosa avesse terrorizzato i residenti in quel momento. Ma fortunatamente c'è un uomo che può rispondere a tutte le domande senza risposta che abbiamo sugli incidenti UFO. Ad esempio, David Grosch ha attirato l'attenzione su di sé con alcune dichiarazioni incredibili, che ora sono arrivate persino davanti a una commissione di inchiesta del Congresso degli Stati Uniti. Le accuse principali possono essere riassunte come segue. Gli alieni sono reali e il governo degli Stati Uniti ne è perfettamente a conoscenza. Affermazioni controverse. Come ufficiale dell'aeronautica statunitense, David Grosch ha prestato servizio in Afghanistan. Tra il 2019 e il 2021 è apparso nuovamente come rappresentante della Task Force per i fenomeni aerei non identificati del Pentagono, dedicandosi alle indagini sui fenomeni UFO. E se si seguono le affermazioni dell'ex ufficiale dell'intelligence, qualcosa di quasi incredibile sta accadendo a porte chiuse. Nel dettaglio, da diversi decenni, è in corso un programma top secret in cui gli UFO precipitati vengono recuperati e poi ricostruiti. Sebbene l'informatore sia stato negato l'accesso diretto a tale programma, egli ha appreso da una fonte affidabile che il governo degli Stati Uniti mantiene un programma di recupero degli UFO. A questo proposito, Grosch fa riferimento non solo ad alcune fotografie e documenti ufficiali, ma anche alle dichiarazioni confidenziali di funzionari statunitensi che non ha citato per nome. Secondo loro si tratta di oggetti intatti e parzialmente intatti di origine non umana. Nell'ambito dei ritrovamenti di UFO era stato trovato anche materiale biologico, che dopo un'analisi dettagliata era risultato non umano. Dopo che Grosch ha reso pubbliche le sue affermazioni prima sul sito internet The Brief e durante un'intervista con l'emittente televisiva News Nation, ha ripetuto il nocciolo delle sue affermazioni anche davanti alla commissione di inchiesta citata, e questo si va di bene sotto giuramento. Tuttavia Grosch è anche consapevole della portata delle sue ampie accuse. Quando gli è stato chiesto se qualcuno fosse già stato ucciso nell'ambito del presunto insabbiamento, ha affermato di dover essere estremamente cauto nel rispondere a questa domanda. Ho segnalato le persone che ne sono a conoscenza alle autorità competenti. Dichiarazione contro dichiarazione Particolarmente interessante, Grosch non è affatto solo con le sue affermazioni. Anche l'ex pilota della marina, David Freivor, è convinto che gli alieni siano arrivati già da tempo sulla Terra. Durante una missione del 2004, Freivor ha visto un oggetto volante sconosciuto a forma di tic-tac che ha mostrato un inspiegabile modello di movimento. Le dichiarazioni dell'ex pilota militare Ryan Graves sono simili. Secondo lui, gli UFO nello spazio aereo degli Stati Uniti sono segnalati troppo raramente. E questo, sebbene tali osservazioni siano tutt'altro che rare, in realtà appartengono alla vita quotidiana degli equipaggi militari e dei piloti commerciali. Ma cosa ha da dire la controparte sulle affermazioni di Grosch & Company, Sean Kirkpatrick, il capo dell'ufficio del Pentagono responsabile delle indagini sugli incidenti UFO, definisce insultanti le affermazioni su un programma di recupero top secret. Nella sua dichiarazione, Kirkpatrick si è detto profondamente deluso e aggiunge, per essere chiari, non ci sono prove credibili a sostegno delle affermazioni di un programma di reverse engineering di tecnologia non umana. Anche il Pentagono prende chiaramente le distanze dalle affermazioni di Grosch, affermando che non ci sono informazioni confermate sull'esistenza di un programma di questo tipo, o che sia mai esistito. Ma come dobbiamo valutare ora le dichiarazioni di Grosch? È possibile che il governo degli Stati Uniti sia effettivamente in possesso di tecnologie extraterrestri e che stia addirittura cercando di replicarle? Scrivici le tue opinioni su questo interessante argomento qui sotto nei commenti e aiutaci a svelare questo mistero. E con questo, grazie per aver guardato, stammi bene e alla prossima.